Comincia la stampa e oggi la polemica è soltanto tutto qua. Perché è venuto a rimborso spese. Ho capito ma forse è venuto e dici sei pagato 400.000 euro per fare quella cagata lì e allora lo capisco ma viene a rimborso spese. Siamo tutti qua dentro che ci stiamo prendendo troppo su serio. Per fortuna no, c'è troppo caotica per me. Io prevenisco la campagna. Ma come vado a casa mia? Tanto due figli dell'età tua ce l'ho amore. Ciao amore. Ciao amore. Ciao. Ho voluto mantenere la concentrazione, ho detto vicino ai miei amici, ho detto vaiù, mi raccomando, se andiamo primi state calmi, non scontriamo niente. Perché non è finita, alla fine sono grato del televoto, del supporto. Abbiamo festeggiato perché i ragazzi hanno fatto mille chilometri per venire da me per supportarmi, quindi hanno festeggiato. Qua si scattarasse il croco. No, ma è chiaro. Ciao a Brescia, ho detto ciao a Brescia. Ciao a Brescia. Ciao a Brescia. Hai ascoltato le cani di Sanremo? Questo anno non ho visto nessun show ancora. Buona fortuna per oggi. Ciao a Brescia. Ma preferisci la vittoria o il premio della critica? Fa tutte e due, non si può. Ah, proprio così. Sogno in grande, guarda. Sienta all'Ariston. Io faccio il tifo per Rosevillen, vediamo come va. Un look, devo dire, molto figo, eh? Molto figo.